Il presidente, il neopresidente Toti, piagnucola per l'accoglienza di 150 persone, la regione di Luca Zaia ha solo 5 comuni sui 350 della regione Veneto che hanno siglato gli accordi La sola città di Catania negli ultimi 9 giorni ha accolto 5190 persone senza battere ciglio Io propongo innanzitutto che i cittadini siciliani siano candidati al Nobel per la pace e poi propongo anche che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte del nostro Paese e di tutti i comuni italiani perché se tutti fanno la loro parte possiamo dare uno straordinario esempio in Europa di accoglienza 8 persone per comune, ogni elettore delle primarie del PD se ne prende a casa un paio Iniziamo così che abbiamo risolto il problema, come ha detto la figlia di Gino Strada paghiamo le tasse quindi non ce li prendiamo in casa ma crediamo che dei bravi amministratori locali come sta cercando di fare il presidente del Consiglio battendosi in Europa possiamo dare insieme la risposta a questa emergenza umanitaria Grazie! Grazie!